Ciao amici di Teletro Games, buongiorno, si è capito oggi che Konami mi vuole far fare il record di numeri di video registrati nello stesso giorno. Siamo alle 8.06, siamo al terzo video, ma come vedrete ci sono altre notizie molto importanti e che riguardano l'aggiornamento di oggi. Però prima c'è un'altra notizia ancora sui Football 2024. In accordo con i termini di utilizzo di Football 2023 rimuoveremo i dati salvati degli utenti che non sono stati attivi all'interno del gioco negli ultimi sei mesi. I dati passibili di rimozione includono quelli non utilizzati per un periodo di tempo significativo di tempo, 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 e che quindi vengono giudicati con scarse proprietà di essere usati in futuro, come i dati con giocatori ingaggiati ma privi di storico dei partiti, inclusi quelle WSEA. Il processo di rimozione è previsto durante la manutenzione su larga scala che avverrà tra fine agosto e settembre, quando uscirà il Football 2024. La data precisa del processo di rimozione sarà resa nota in un secondo momento. Se quanto sopra si applica al tuo caso e intendi preservare i dati di salvataggio, accerta di accedere al gioco e riscuoti il bonus accesso prima che il processo di rimozione abbia luogo. Una volta rimossi i dati di salvataggio non potrai più continuare a giocare con quei dati di salvataggio. Se vuoi giocare nuovamente dovrai ricominciare con un nuovo utente. I dati non possono essere recuperati una volta rimossi. Quindi se avete qualche account magari su un dispositivo secondario, ad esempio io gioco adesso su PlayStation 5, su Xbox e su PC mi faccio solo gli accessi per i punti football o altre cose, voi che dovete fare? Entrate nel gioco, fate qualcosa e fate una partita per non perdere i dati di gioco. Se giocate normalmente non vi preoccupate di nulla. Ma la notizia è questa. Oggi ragazzi c'è una leggenda in regalo. Non so se ci sono solo tra queste o ce ne sono anche altre. Qui vediamo De Nilsson, Salas, Donadoni, Ambrosini, Xavier Alonso, Guardiola, Bergkamp, Drogba, Casiglia, Skolz, Figo, Zamorano, Cech e Bebeto. Se la leggenda in regalo sarà solo fra queste o questa è solo una parziale lista. Comunque, grazie alla tua fedeltà ai Football 2023, la serie Football festeggia il suo 28esimo anniversario. Ovviamente considerando di Football e Pro Evolution Soccer. E quindi in qualche modo Konami ammette che c'è una storia, una tradizione che non si è capito perché non abbiano potuto lasciare sia il nome Football che Pro Evolution Soccer o Winning Eleven. Il primo titolo è infatti uscito il 21 luglio 1995. Per festeggiare questa impresa straordinaria sarà disponibile una campagna apposita. Regalo per l'accesso speciale. Per ringraziare tutti il supporto degli ultimi 28 anni offriamo un accordo al buio a tutti gli utenti che accederanno al gioco durante il periodo di realità della compagna. Questo accordo al buio è utilizzabile per ingaggiare uno dei giocatori epici del gioco disponibili in questa selezione. Periodo di distribuzione 29 giugno-29 luglio. Ragazzi, ne regalano uno. C'è scritto benissimo. Accordo al buio per uno. L'accordo al buio sarà inviato dal tuo posto in arrivo. Gli accordi al buio sono utilizzabili solo per ingaggiare i giocatori e le liste di giocatori speciali idonei nel corso dei rispettivi periodi di disponibilità. Quindi, lo ripeto, una leggenda. Non iniziate a pensare che ogni settimana ve ne regalano uno. No, uno. Una, però meglio uno che niente. Bonus di accessi speciali. È disponibile nella campagna accessi e ti permette di ricevere un massimo di 440.000 GP, 200 monete di football e 4 accordi al buio. Molto interessante. Basterà accedere al gioco 7 volte in ciascun periodo di validità della campagna. 29 giugno, 6 luglio, 6 luglio, 13 luglio, 13 luglio, 20 luglio, 20 luglio, 27 luglio. Qui non lo so se riuscirò a prendere le monete. Inizio già a dire così, qualche giorno di riposto lo prenderò. Dettagli bonus di accesso. Purtroppo non c'è il cross save, quindi anche se ho il cellulare e mi accede al mobile non posso portarle ai football. L'accordo al buio per uno, 30.000 GP, 30.000 GP, 30.000 GP, 50 monete di football, bene, 10.000 GP e 10.000 GP. Questo per le prossime 4 settimane. Quindi sono 200 monete di football in regalo, 80 GP ma ci facciamo ben poco, oppure 4 accordi al buio in regalo. Probabilmente saranno quelli per... vedremo quali saranno. La prima ricompensa è un accordo al buio utilizzabile in qualsiasi lista di giocatori speciali che includa giocatori showtime al momento dell'acquisizione. Quindi sembra che avremo tutti showtime il giovedì e non leggende e potremo fare il giro in quei pool da 150 giocatori. Così sembra, vediamo dopo quando aprono i server. I bonus per l'accesso si azzerano ogni giorno alle 2. Puoi tenere ciascun bonus di accesso su una volta al giorno, ovviamente. Assicurati di riscuotere gli oggetti della posta in arrivo prima che scadano. Ci saranno nuovi obiettivi della campagna. Finalmente ci sono 620.000 GP, 60.000 punti ESP, 150 monete di football e anche programmi aggiuntabilità e accordi al buio. 29 giugno, 27 luglio, aggiungeremo nuovi obiettivi nei periodi elencati qui sotto. Il 6 luglio, il 13 luglio e il 20 luglio. Quindi dopo di oggi ce ne saranno, oppure non so, no, 29 giugno, quindi ogni settimana per 4 settimane ci saranno novità. Ogni settimana vengono aggiunti nuovi obiettivi, quindi prova a completarli tutti e fa il pieno di ricompense. Eventi in modalità idonei, campionati di football, eventi tool starter, eventi sfida, legend, golden goal. Ecco, quindi saranno questi elementi, anche il campionato di football vale per questi obiettivi. Evento sfida speciale, completando le sfide puoi ottenere fino a 40.000 punti ESP, mettiti alla prova le tue abilità, partecipando all'evento sfida golden goal. Questo quindi, evento sfida impegnativa. In questo evento avronterai più ostici e controllati dalla I con la tua squadra dei sogni. Mettiti alla prova affrontando i livelli abilità avversario degli A, medio e leggenda. Completa tutte le sfide, ottieni vari premi tra cui programmi aggiuntabilità e accordi al buio. Affronta l'evento sfida legend e trionfa nei livelli abilità avversario più difficili. Anche questi per quattro settimane. Evento tour speciale, durante il periodo della campagna si daranno eventi tour che ti permetteranno con GP e programmi aumenti i livelli, accumula 6.000 punti e ottieni fino a 50.000 GP e 60.000 punti ESP. Evento co-op, per festeggiare la rintroduzione della modità co-op sarà disponibile un evento speciale. Durante il periodo dell'evento tutti gli utenti che avranno giocati in co-op potranno essere estratti a sorte e 10.000 euro porteranno a casa 100 uniti di football. Peccato questa storia degli estratti a sorte. Approfitto di questa opportunità per giocare in match in co-op, periodo di unità, 13 luglio e 27 luglio per l'estrazione a sorte. I premi verranno inviati durante l'amutenzione del 3 agosto. Ragazzi, un bel po', un bel malloppo di roba. Oggi in arrivo, aspettiamo l'apertura dei server e ci diamo appuntamento per il quarto video del giorno o se sarà il quinto, se ci sarà da informarvi di altro. Oggi davvero, Konami, come al solito, si trattiene, si trattiene, si trattiene e poi... A presto, ciao!